Una spesa di 750 milioni di euro per realizzare l'elettrodotto lungo 560 chilometri proveniente dal Montenegro e che toccherebbe i territori di Pescara, Cipagatti, Gissi e poi Larino e Foggia. Una battaglia che in Abruzzo va avanti da cinque anni. L'associazione Nessuno Tocchi il Nostro Futuro porta oggi le carte che ritraggono la storia degli accordi che nel 2007 l'allora ministro allo sviluppo economico Luigi Berzani e il collega Montenegrino e allora amministratore delegato di Terna, società realizzatrice Flavio Cattaneo, stipularono insieme. Fino adesso noi abbiamo fatto di tutto. La Terna ha fatto di tutto per realizzare l'opera e pare che stia vincendo la partita anche grazie alle divisioni che ci sono nella popolazione. Perché in cinque anni noi abbiamo fatto la battaglia di Don Chisciotte perché oggi se c'è questo problema la cittadinanza e la politica soprattutto non ci sono potuti sentire. Io voglio ricordare la più grande battaglia che noi abbiamo fatto due anni fa che era quella della proposizione del referendum che doveva essere indetta nei 20 comuni dove passa l'opera. Una fornitura di energia elettrica che inizialmente invece prevedeva una rotta diversa e un tracciato lungo la metà di quello di oggi in via di realizzazione. Tra le conseguenze messe in evidenza dal comitato, inquinamento elettromagnetico, svalutazione delle aree adiacenti al tracciato e altre ancora non quantificabili come quelle dell'inquinamento delle aree interrate. Avrà Pescara e tutta l'area metropolitana un grandissimo problema sia a livello economico perché la linea porterà un danno ai proprietari perché c'è una fascia di rispetto in sopraelevata interi territori saranno non più utilizzabili. Parliamo di una fascia di 100 metri lineari. In città dove passerà il cavo, c'è Pagatti, Spoltore, Pescara, è chiaro che la fascia di rispetto è minore, ci parliamo di 15 metri a destra e a sinistra. Ma altresì vero, chi è che andrà a comprare più una casa dove passa vicino un cavo? Non avrà più valore. Da queste valutazioni nasce l'esigenza di coinvolgere la classe politica di reggente. Dice Valloreia c'è ancora la possibilità di bloccare i lavori. La questione si risolve con i dati di fatto. Noi a fine mese, benché siamo vicini al Capodanno, faremo una riunione con tutta la cittadinanza della zona Alcione, il villaggio Alcione. Vogliamo incontrare il Presidente, vogliamo un suo intervento che può fare qualche cosa.